Questo è un video di protesta Un video fatto rigetto Un video in cui non editerò nulla Se non forse, forse Un minimo di titolo di ente primaria inizio, basta Non mi preoccuperò di sbagliare le parole Non mi preoccuperò di farlo bellissimo E' attraente Perché penso che quando una persona è arrabbiata Quando una persona è arrabbiata ha poca voglia di fare una cosa bella Siccome ho già parlato abbondantemente di questa cosa Sono stanco di ripetere sempre le stesse cose Leggerò un articolo che ho scritto io Chi mi conosce sa da dove ho preso Ma siccome la mia situazione lavorativa è disastrosa Non parliamo di lavoro Parliamo di Youtube Non sono e non sarò mai una beauty guru Dal giorno in cui mi sono avvicinato alla tecnologia Ho aperto e chiuso un certo numero di canali Youtube Attualmente ho in uso questo Che vi linko nel caso qualcuno di voi fosse interessato Ma prima di entrare nello specifico del mio canale Vorrei fare un po' di numeri e statistiche Il popolo di Youtube italiano è noi Vuole vedere sempre le stesse cose Meglio se sono copiate talvolta anche remenziali Perciò mio caro lettore o lettrice Se non intendi filmare ogni istante della tua vita Se non sei genitore o non lo stai divenendo Se non hai 3 milioni di mascara, matite, blush, ecc Non aprire un tuo canale Tralasciando la nota sarcastico e ironica Della affermazione precedente Come Youtuber, più o meno Mi accorgo che basta realmente essere bravini a truccarsi Avere un minimo di carisma per trascinare le persone Un po' di buona pubblicità e come per una cica Ecco che compaiono 1000-2000 iscrizioni dal nulla Meglio se avete una canola da 200€ E si Perché poi si diventa esigenti Le persone iscritte a Youtube Che vanno nettamente separate dai creatori della piattaforma I quali per me hanno creato una meraviglia Richiedono video di una certa qualità Ma la domanda che mi faccio ogni giorno è E che giro a voi è Perché? C'è davvero bisogno di un video per insegnare a truccarsi? E' mai possibile che un video di un bimbo o una bimba Non ho ancora nato o nata Che scaccia in grembo alla madre Possa costituire un'occasione per racimolare tante visualizzazioni E apro una parentesi Nicuzza Sweet Mom Se stai guardando questo video non ce l'ho con te Ma ce l'ho con le iscritte che vogliono vedere sempre le stesse cose Accusami Ti mando un abbraccio Ciao Ed io, povero illuso Che pensavo che per fare una famiglia Bastassero due persone che si amano E che la allargano in seguito Se lo desiderano Evidentemente le ragazze e le donne del 2000 Si truccano su Youtube E se rimangono in stato interessante Lo consultano invece che andare da un buon ginecologo E si Apro altra parentesi qui Personale Ho visto un video Ora non mi ricordo di chi Di una ragazza che è giovane Che ha raccontato che quando era in città Non sapeva cosa fare Allora guardava video sulla gravianza su Youtube Bene Chiudo parentesi Spero di non aprirne più Continuazione dell'articolo Eravamo arrivati a buon ginecologo Ma che testezza Un'altra cosa che ho notato Quando navigo su Youtube E che va molto di moda Girare e montare video Sull'amicizia a distanza Allora mi son detto Che volevo girarne e montarne uno anch'io Bene Qui avevo scritto ed eccolo qui Però vi lascio il link Qui sotto Del video Sull'amicizia a distanza Il risultato Chiaramente Apro parentesi Altra Il risultato è aggiornato al 20 aprile Ok Solo 87 visualizzazioni in 3 mesi Eppure si tratta proprio del decantatissimo E copiatissimo video Sull'incontro con il mio migliore amico a distanza Che mi ha spinto a ricreare un mio nuovo canale Youtube Cosa ho che ne va? A mio parere le motivazioni sono semplici A L'intero mio canale non va di moda Perché non mi vloggo mentre mangio i biscotti della colazione B Non sono una beauty guru C Non sono abbastanza carismatica per gli standard del pubblico di Youtube D Non ricevo pubblicità e iscritti da me Sono uno dei Tra virgolette doppiatori Virgolette valute Più amatoriali del mondo Per cui il mio doppiaggio Di una scena in cui interpreto Harry Potter Link Qui sotto Per il quale ho dovuto chiedere aiuto per il montaggio Anche se ai vostri occhi durano solo 2 minuti e 44 Ha raccimolato Sottolineo Sempre il 20 aprile Solo 41 visualizzazioni in due mesi Due pollici in su E perfino uno avverso Ma non ho letto un commento scritto per esteso Non una critica costruttiva Neanche un La tua voce fa schifo Non so Non abbia di curo come ho già detto Ragion per cui Quando ho interpretato la versione in inglese della mia occasione Link qui sotto Tratta dal celebre film di animazione Frozen Il regno di gaccio del 2013 Ha ricevuto 76 visualizzazioni A pensare che non ero neanche nelle mie corde Nessuno mi fa una critica Ad oggi Mentre vi scrivo La data l'ho già detta Non la ripeto più Il canale di quel quasi 25enne Ora 25enne ormai Rosso malpele Col berrettone di lana E la humor Discutibile Conta ben 348 visualizzazioni Totali 27 iscritti 7 video E no Non ho intenzione di chiuderlo Penso proprio che andrò a leggere il libro Cuore di Edmondo e le amicizie Oppure a rivedere il film di Frozen E a commuovermi un po' Quando Elsa e Anna faranno pace Che ne dice Perché si Frozen piace a me Si Leggo il libro Cuore di Edmondo e le amici E si Girerò altri video Quando avrò voglia Scusate Youtubers Non mi trucco Scusate se non sono Incinto Non vloggerò mentre mangio i biscotti E non mostrerò al mondo cosa ho nell'iPhone Scusatemi Davvero Scusate